Buongiorno a tutti, sono Stefano Capacioli, parlerò di innovazioni fintech, blockchain e di professionisti, commercialisti, avvocati e notai. Tanto mi presento, chi sono? Sono un dottore commercialista e revisore legale con studio in Arezzo, mi definisco uno studioso della frontiera del diritto. Ho scritto un libro nel 2015 per Giuffre, criptovalute e bitcoin in un'analisi giuridica, nel 2015. Oltre 50 articoli tra sagge scientifici e articoli su questo argomento. In corso di pubblicazione è un altro libro come Autori vari sul bitcoin e criptovalute da un punto di vista del diritto finanziario. Ho fondato Coinlex, che è nato come blog e poi come network di professionisti che si occupa di criptovalute. Ho fondato e sono presidente di Assobit, associazione di categoria. Io vi farò fare un velocissimo percorso all'interno del diritto per le professioni in merito a quello che avete sentito prima, blockchain, bitcoin. Con una premessa, le criptovalute non sono valuta. Non lo sono, non lo possono essere e non lo saranno mai. Chiunque pensa che le criptovalute, solo per il fatto che ci sia scritto valute, sia una valuta, cade in errore. Oggi non la affronterò, ma c'è caduta in errore l'agenzia delle entrate e tanti di che parlano cadono in errore. Questo che vi dico poi lo vedremo, fa parte anche del diritto comunitario, sta facendo parte del diritto comunitario. Nulla hanno a che vedere con le valute. Primo aspetto, si parla di blockchain. Attenzione, è una parola che va di moda, buzzword. Cioè è una parola che è utilizzata per fini di marketing, non viene utilizzata correttamente. Un'altra parola che va di moda, smart contract. Attenzione, un'altra buzzword. È un'altra parola che va di moda, un altro hype, è un qualche cosa che vende. Attenzione alle mode, comprendiamo i fatti. Quello che stiamo vedendo è il concetto di decentralizzazione, disintermediazione, digitalizzazione, le 3D. Il concetto di valute virtuali, che è un qualche cosa che non era previsto. Attenzione quando parliamo di regole. Il prossimo paper che sto scrivendo è in merito alle regole. Premetto, non sono un divulgatore, faccio il giurista, quindi tutte le questioni le analizzo da un freddo e approfondito punto di vista scientifico. Molte delle regole che noi conosciamo, che noi utilizziamo, che noi utilizziamo nella nostra professione, sono scritte per gli intermediari. Con la disintermediazione delle valute virtuali, non ci sono più gli intermediari. Tale per cui tante regole, si parlava in un tavolo ristretto in Commissione Europea, ci sarà necessità di eliminarle quelle regole. Non di scriverne nuove, ma di eliminarle alcune regole, perché da una parte non sono più utili, perché si rivolgono all'intermediario che non abbiamo più l'intermediario. Della quarta parte diventano un ostacolo, perché in molti business che ho affrontato, queste norme diventano impossibili da rispettare, perché mancando l'intermediario vi sono delle norme indirizzate verso un punto che non c'è più. Intanto, quando poi parliamo delle criptovalute, soprattutto da un punto di vista tributario, che come ho detto oggi non affronterò, quello come la penso la potete trovare sui soli 24 ore che con Dario Deotto abbiamo riempito qualche settimana fa, iniziamo a riflettere una cosa, le valute virtuali nascono, nascono all'interno delle mailing list, dei crypto anarchici e dei cypherpunk, quindi bisogna recuperare tutta quella filosofia per comprenderne l'utilità, ma nascono senza alcuna quotazione in dollari. Non sono nate per avere una quotazione in dollari, sono nate come, io lo ritengo come un gioco, come un esercizio intellettuale, e sono nate per vedere se fosse possibile fare transazioni peer-to-peer senza intermediari. Addirittura, quando c'è il paper, la prima risposta che gli arrivò da Donald Sun, che era un altro criptografo, è che non avrebbero mai funzionato, quindi anche all'interno della stessa comunità non ci credevano. In realtà il 3 gennaio 2009 esce il primo blocco, il 5 ottobre 2009, quindi dopo dieci mesi, c'è un ingegnere, e dico un ingegnere, poi ve lo dimostro perché, che dice ma per produrre questi bitcoin, perché il bitcoin non è altro che la prova di lavoro trasferibile, transferable proof of work, ci vuole energia elettrica, quindi io stimo quanto può costare fare un bitcoin, e fa questa stima, 1309,03 bitcoin per un dollaro statunitense. Dico che un ingegnere perché il commercialista, vista l'assunzione che ha fatto prima, 1309,03 fa 1.003, si arrotonda e si fa cifra tonda, invece no, questo è proprio un ingegnere preciso, puntuale. E dopo il 12 ottobre c'è la prima operazione, anche questa, una prova, vedete se era possibile farlo, via Paypal, questo con 5 dollari e 0,2 compra 5.050 bitcoin. Da questo momento il bitcoin è in bolla, era in bolla qui, perché se definiamo bolla, quando si parla prima di bolle finanziarie, qualunque cosa che valga più del suo valore intrinseco, dato che il bitcoin notoriamente non vale altro che un bitcoin, quindi non vale nulla, è una valutess virtual currencies, da questo momento è in bolla. L'oro è in bolla da 6.000 anni, il bitcoin è in bolla dal 12 ottobre 2009, che l'oro è in bolla da 6.000 anni, lo dice Gian Tirolle in un articolo che sono le 24 ore. Più un altro po' di storia, il primo acquisto di bitcoin nel 22 maggio del 2010, il primo caso giudiziario in Francia nel 2011, la prima volta che l'FBI se ne occupa, quindi un law enforcement agency se ne occupa, è nel 2012, ovviamente il primo caso di frode, la vera truffa, l'abbiamo a agosto del 2012, con Trendon Shavarts, un simpaticone che scappò con da 500.000 a 700.000 bitcoin, l'arresto di Dread Pirate Roberts, che era il gestore di Silk Road, il primo mercato illegale che utilizzava bitcoin e per il quale bitcoin si porta dietro la nomea, ma come vedete non ha alcuna correlazione col prezzo, perché quando viene chiuso il sito era 133 dollari, l'esplosione nel novembre del 2013, che tocca 1132, è perché i cinesi iniziano a comprare bitcoin, dopo che la banca cinese ha dato l'ok, poi il governo cinese ha fatto retromarcia e il bitcoin è sceso a 150 dollari, e questo è stato il crollo più pesante che ha avuto il bitcoin, meno il 90%, quasi il 90%, dal 29 novembre del 2013 al 2015. Le quotazioni di oggi le conoscete tutti, però questo fa capire come il bitcoin non abbia alcuna né correlazione con l'economia illegale, e le quotazioni derivano esclusivamente dalla domanda dell'offerta. Il problema quando cerchiamo di applicarci il diritto è questo, che è un UFO, è un qualche cosa non conosciuto, non conoscibile, il nostro diritto non lo prevedeva, tale per cui diventa un legal unidentified o unknown object, un qualche cosa che non si comprende, anche perché cos'è il bitcoin? Io vi do oggi una definizione tecnica, che è quello che veramente è il bitcoin, le criptovalute, sono un sistema di messaggistica che genera una rappresentazione digitale di valore nella forma del coin o del token, scarsa e cronologicamente inalterabile. Questo è il bitcoin, questa è la criptovalute. Poi iniziamo a pensare il nostro diritto, se lo devo mettere in questa definizione, ho assolutamente un contrasto insanabile, perché non è una quantità, è un messaggio, perché il bitcoin alla fine non è altro che un messaggio, la criptovaluta non è altro che un messaggio. Il sistema blockchain me lo rende cronologicamente inalterabile. Il messaggio che ho, per la prima volta, ho la scarsità all'interno di internet, perché se voi ci pensate, se io mando un file, qualunque cosa che abbia su internet non è proprietaria, perché un file quando mando una mail, quando mando la mail, la mail mi tengo una copia. Un file lo posso duplicare. La prima volta che abbiamo un sistema che all'interno dell'informatica genero un qualche cosa di scarso. E il sistema blockchain me lo rende cronologicamente inalterabile. Da un punto di vista europeo, visto che oggi voglio parlare della mia professione, la professione avvocato, la professione di notaio, in relazione a questo mondo, io dico guardate che a livello europeo abbiamo avuto, oltre tutta una serie di documenti, la sentenza della Corte di Giustizia, la 264 del 2014, edfkist in merito all'IVA e altri vari documenti della Banca Centrale Europea, dell'EBA, dell'ESMA, che ne potremmo parlare ma non c'è il tempo, dico che il servizio di ricerca del Parlamento Europeo nel febbraio del 2017 fece un documento che è How Blockchain Could Change Our Lives. Era un documento e indica otto punti in cui, secondo il servizio di ricerca del Parlamento Europeo, il sistema blockchain, i protocolli blockchain, potevano incidere sulla nostra vita, sulla nostra società, che erano la moneta, il digital content, le patents, quindi tutta la parte di brevetti, sistemi di voting, i smart contracts che poi vedrete con Telesca, supply chains, blockchain state, o le DAO, Decentralized Autonomous Organization, che è una storia che se siete veramente curiosi e avete voglia di sorridere, vi invito a leggerla, io ne parlerò nel capitolo del prossimo testo che scriverò. In più, il 10 aprile del 2018, 22 paesi europei hanno firmato un protocollo, una partnership a livello blockchain, dove sfortunatamente non era presente l'Italia. c'è questo documento all'interno di questi 22 paesi, dove dicono cerchiamo di scambiarci esperienza e expertise, sia tecnica che regolatoria, e per prepararci al lancio di applicazioni a livello europeo di blockchain. In Italia, cosa abbiamo avuto? Questo a livello europeo, molto sinteticamente, in Italia, l'Italia è stata un paese che per primo ha dato delle indicazioni con Banca d'Italia a documenti della fine di gennaio del 2015, ha aperto un canale fintech, il Dipartimento del Tesoro ha creato un tavolo fintech del quale faccio parte, nel quale si sta discutendo anche di queste cose, e la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nella scorsa legislatura, ha fatto addirittura un'indagine conoscitiva fintech su questo argomento per cercare di fare un sistema regolatorio che non fosse in ospitale per la regolazione. E qui potete vedere nel sito del Parlamento, della Camera dei Deputati, anche il rapporto dell'indagine fintech. Sono stato anche audito per primo e ho rappresentato le mie cose. In più vi do i dati delle SEO aggiornati rispetto a quelli di Gabriele. Gabriele si è affermato al 2017, e ho portato fino a marzo del 2018, a breve ci metterò anche aprile 2019, per vedere, per dimostrare cosa. Vi ricordate il documento del Parlamento Europeo? Non ci sono le SEO. Ma non è che non ci sono le SEO perché il Parlamento Europeo se ne è dimenticato, o perché chi ha fatto l'analisi era impreparato, è perché febbraio 2017 non esistevano. Perché questo è un mondo il cui livello e velocità di innovazione è devastante. Io dico che tre mesi in questo mondo è un'era geologica. Cioè qui in tre mesi io posso, tra tre mesi posso trovarmi a parlare di tutt'altro, ma non perché, perché è cambiato nel frattempo. Voi vedete le SEO che sono partite dal giugno del 2017. Cioè a livello mondiale, solo in un mese è entrato su 648 milioni di dollari. nel luglio 660, agosto diminuito per via del documento SEC 81027 del 24 luglio del 2017, poi sono ripartite settembre, ottobre, novembre, dicembre, a gennaio ha toccato il massimo un miliardo e mezzo di dollari. Cioè con questo sistema, che per me è una forma di crowdfunding 2.0, e quindi segue gli schemi del crowdfunding, sono stati tirati su capitali per cifre spaventose. Se guardiamo invece il livello del venture capital e del crowdfunding in Italia, che è una cosa che continuo a dire, il crowdfunding nel 2017 ha tirato su 41 milioni di dollari. Questi sono dati di crowdfunding.it, con la divisione tra donation, do it yourself, equity e lending. Mentre per tutto il 2016, queste sono le varie stimi, massimo 200 milioni di euro a livello annuale nel venture capital. Se torno indietro, le ICO, queste cifre qui, le hanno tirate a maggio su maggio del 2017. Cioè questi in un mese, in un mese a livello mondiale, hanno tirato su con questo sistema, che come avete visto stamani non dà alcun diritto, vede tutta una serie di problematiche, che tutto quello che vi pare, hanno fatto più fundraising rispetto a tutto il sistema italiano del venture capital e del crowdfunding. A me qualche perplessità, viene da tecnico. È un buon sistema questo? Quell'altro sicuramente ha mille problemi, però con quell'altro tante possibilità le abbiamo avute. Anche perché per la prima volta, dalla carta di credito, che è l'ultima innovazione che conosciamo all'interno dei sistemi finanziari, per la prima volta abbiamo un'importante rivoluzione globale. Qualunque innovazione, per definizione, cosa fa? Sconvolge il sistema attuale, lo status quo. E possiamo avere un atteggiamento o entusiasta, lo accettiamo, accettiamo la novità, o possiamo avere un atteggiamento di rifiuto, sollevando FUD, paura, incertezza e dubbi. Io quando nel 2015, da eretico, non solo da studioso sulla frontiera del diritto, ma proprio da eretico, ho costituito un SRL con conferimento di 45 bitcoin come capitale sociale, trovate nel mio blog l'atto e tutto, non vi dico sia i miei colleghi sia amici notai quello che mi hanno detto. Mi hanno detto, ma sei sicuro di averlo fatto? Hai fatto una perizia di stima con 45 bitcoin? Ti rendi conto da un punto di vista dell'antiriciclaggio? Nessuno sapeva che quei 45 bitcoin erano stati comprati su una piattaforma tedesca autorizzata dalla Bafin. Nessuno lo sapeva, però la prima cosa che mi è stata detta, attento, qualcuno ti verrà a chiedere conto di questa tua innovazione. Ed è il FUD, paura, incertezza e dubbi. Le interpretazioni nel nostro mondo delle professioni sono poche e ben confuse. Se voi andate a vedere, sono poche e ben confuse. C'è una scarsa comprensione del fenomeno e c'è il timore di affrontare la novità. Ogni volta che la mia categoria si trova di fronte ad un'innovazione, qualunque essa sia, ci si pone sempre con dubbi, paure, incertezze, problemi. Mai l'affrontiamo, mai l'abbracciamo. E poi ho fatto, sono entrato nel sito della mia categoria, consiglio nazionale di attori commercialisti e revisori contabili, lo potete fare, scrivete bitcoin su cerca, blockchain su cerca, e il risultato è O, non zero, O, è uno zero qualitativo, neanche quantitativo. Lo fate sul Consiglio nazionale di forenze, stesso risultato. Lo fate sul notariato e trovate alcuni articoli su Federnotizie che parlano di bitcoin e il quesito tra il 2018 dell'antiriciclaggio rilasciato dal Consiglio nazionale notarile che lo affronteremo in fondo. Perché ho un articolo che sta uscendo su Giuffre su questo quesito che secondo me è errato, erroneo e addirittura non risponde neanche alla domanda. Quindi le professioni non le affrontano questo problema, o se l'affrontano, lo affrontano con FUD. Io dico, per me è un FOBU, è un Fear of Becoming Useless, paura di diventare inutili. E tale per cui questa paura di diventare inutili, di poter essere superabili, di poter quindi non avere più quelle prerogative che l'iscrizione analbo, li porta a rifiutare, a neanche analizzarlo. Io, mentre a livello mondiale, a livello europeo abbiamo visto, se ne è occupato il Parlamento europeo, il Parlamento europeo ha fatto una ricerca nel 2017 e noi come categoria, parlo quindi anche di me, perché faccio parte di queste categorie professionali, non abbiamo neanche scritto che esiste il bitcoin nel sito del Consiglio nazionale di Forenze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e in quello dei notai, ogni volta che se ne parla, si parla di antiriciclaggio, di rischi e di preoccupazioni. Il problema è che quando si affronta il bitcoin, non è semplice. Io dico, noi, questa l'ho fatta una lezione all'università, ho parlato di gettore telefonico, ho visto ragazzi che erano abbastanza non preparati, poi mi sono reso conto che forse era la loro età. E qui posso parlare di gettone telefonico e tutti noi sappiamo di che cosa si parla. Beh, la mia, la vostra generazione, col gettone telefonico si telefonava. Quando erano ragazzi, l'unico modo per telefonare era il gettone telefonico. Il nostro paradigma tecnologico era il gettone telefonico. Quindi, nessun problema, vuoi telefonare e devi avere un gettone telefonico. Beh, è arrivato lo smartphone. Certo, per chi conosce e mentalmente resta il gettone telefonico, si può telefonare col gettone telefonico in un smartphone? Beh, io che conosco solamente il gettone telefonico, dico, un sistema ci deve essere per mettere il gettone telefonico dentro lo smartphone, non deve telefonare. Anzi, è sicuramente necessario il gettone telefonico per lo smartphone. Ma quando uno poi conosce la tecnologia, quando entra nel paradigma, si rende conto che il gettone telefonico nello smartphone, non solo non serve, ma è proprio totalmente inutile perché sono due paradigmi tecnologici diversi. Quindi, la prima cosa che c'è da fare con le criptovalute è comprendere di che cosa si parla. Comprendere la tecnologia e qui vi do le brutte notizie, vi ci vuole, per chiunque ci vorrà avvicinarsi, ci vuole tanto, tanto tempo. Io, è dal 2013 che li studio e tuttora dichiaro di sapere e di non sapere. Mi definisco un apprendista avanzato, un qualcuno che si è avvicinato, tante cose le comprende, ma tante altre ancora non le comprende perché il tecnico riesce sempre a stupirmi. E quindi, però, se io voglio applicare il diritto a questo mondo, necessariamente devo prima comprendere questo mondo. Perché se no faccio esattamente come hanno fatto i notai o tanti altri, che non faccio altro che cercare di trovare una mia categoria concettuale che mi è utile, consona, che riesco a comprenderla, e l'applico al bitcoin. Risultato? Un disastro. Iniziamo a dire, li posso utilizzare bitcoin in società? Certo. L'impresa può accettarle in pagamento e usarle per pagare. Addirittura Banca d'Italia nel 2015, qui quando qualcuno mi dice va vietato il bitcoin, dico sì, possibile, si può fare, ma devi fare come la Corea del Nord. oppure devi fare come un paese islamico che non accetta la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Perché qui si parla di libertà quando si parla di bitcoin. Quindi, le imprese lo possono assolutamente accettarle in pagamento e usarle per pagare. Da un punto di vista IVA c'è l'esenzione, Corte di Giustizia UE, che mai dice che sono valute estere, dice che devono essere esenti come le valute estere per il principio di neutralità, però quando vado a metterli, e ora faccio il commercialista, vado a metterli in contabilità, c'è un primo problema. Principi contabili? E i principi contabili non vi sono. Il problema di risolverlo, dice vabbè, però se le accetto io devo trovare una soluzione. Il problema è l'ambigua natura delle criptovalute, perché è tutto il contrario di tutto. Sul mio libro trovate, sul mio libro qualche articolo, la mia definizione, anche sul mio blog, la legal definition of bitcoin, che è tutto il contrario di tutto. È necessaria un'interpretazione dal mio punto di vista pragmatica, perché è impossibile definire bitcoin con una definizione condivisa e condivisibile. Io in tutta la mia attività di interpreta e studioso non faccio altro che andare a fare il comparatista e di andare a vedere tutti gli altri ordinamenti europei, perché ovviamente siamo all'interno del nostro paradigma europeo, la maggior parte di quello che trovate è relativo agli Stati Uniti. Problema, altro diritto, altro sistema giuridico. Noi bisogna cercare di rimanere in Europa. In Europa sono due paesi che hanno affrontato il bitcoin da un punto di vista contabile, che sono la Spagna e la Finlandia. Anche qui, guardate le date, 5 marzo del 2014, la Spagna, noi ancora il CNDC, Consiglio Nazionale dei Dottori Comercialisti, zero, però loro già l'hanno affrontato e loro utilizzano la dogmatica, dogmatica cioè significa per mettere una categoria deve rispondere ai requisiti di quella categoria e quindi loro finiscono dicendo che vanno o in magazzino se l'attività è finalizzata all'acquisto e alla vendita di bitcoin o finiscono in attività immateriali. L'altro nel 2012, quindi si sta parlando della bellezza di sei anni fa, in Finlandia vi è stato l'istituto finlandese di contabilità con una risoluzione del 2310, il richiedente chiedeva sono valuta, magazzino, investimento, attività immateriale o qualcos'altro? La risposta è fantastica. Qui, la prima cosa devi metterli in contabilità, gli rispondono così almeno siamo chiari che i finlandesi. Seconda cosa devi metterli nell'attivo. Dopodiché loro dicono guarda vanno o in altri titoli ma se il tuo tipo di business è basato sull'acquisto e vendita di criptovalute vanno nei beni mobili quindi in magazzino. FASB non ha dato alcuna indicazione che è quella americano, vi è solamente un loro membro che in un'intervista ha detto che vanno su Lockboa quindi scrivete nelle note come volete registrarli e spiegate. Mentre gli ASB non ha dato indicazioni è uscito nel marzo del 2017 Pricewaterhouse Pricewaterhouse utilizza lo stesso sistema di spagnolo quindi andando con la dogmatica dice che non possono andare sotto cassa non possono andare sotto cash equivalents non possono andare sotto financial instruments non possono andare sotto investment property forse in magazzino sicuramente in beni immateriali. dal mio punto di vista se bitcoin ti porta sempre a queste contraddizioni con la dogmatica si arriva ad intangible però è assolutamente in contrasto io in un bilancio metterlo in attività immateriali i bitcoin mi sembra una contraddizione con i principi contabili. Vi è stato un studio del dicembre 2016 di Deloitte Australia approvato dall'Australian Accounting Standard Boards con la proposta a livello di IASB di modificare i principi contabili per migliorare la comunicazione finanziaria dal mio punto di vista io dico attività immateriali è una contraddizione cioè ci si può arrivare forse al posto che con la dogmatica si va meglio ma va in irremediabile contrasto con un altro principio che è il principio della prevalenza della sostanza sulla forma perché non possono essere considerate nei considerabili attività immateriali io qui dico vi sono in Italia due principi contabili che sono l'OIC 7 e l'OIC 8 che hanno risolto minimamente di prossimità questo problema che sono i principi contabili sui certificati bianchi e sui certificati verdi cosa che a livello di IASB ancora non abbiamo trovato non hanno trovato un accordo io dico non è che sono tanto differenti i bitcoin dai certificati bianchi certificati verdi e tale per cui seguendo il principio di prevalenza della sostanza della forma chi fa il trading il mining cioè la cui attività la business entity la cui attività è finalizzata all'acquisto o alla vendita o alla produzione o alla estrazione di criptovalute mi devono finire in magazzino esattamente come se fosse una cava o come fosse uno che mi fa acquisto e vendita di certificati bianchi certificati verdi tale per cui si supera la critica che viene fatta a livello internazionale sulla materialità del magazzino visto che in Italia si supera con lo H7 e lo H8 non è sicuramente una bestemmia metterlo in magazzino dall'altro punto di vista secondo me vanno a finire in altri titoli del circolante in altri titoli del circolante perché? perché sono assimilabili a altri titoli del circolante cioè io li utilizzo con finalità di pagamento o di investimento e quindi come informazione finanziaria come comunicazione nei confronti del pubblico mi sembra il sistema migliore perché indico il valore di carico indico il valore di fine anno indico in nota integrativa il valore alla data di chiusura del bilancio e lo valuto al minore tra il valore di carico e il valore presumibile di realizzo dal mercato e quindi l'informativa do un'informativa corretta per rappresentare un quadro veritiero e fedele della situazione della business entity ovviamente sono assolutamente in contrasto con la risoluzione 72 dove dice che devono essere equiparate e valutate al valore corrente come valute estere perché valute estere ripeto un'altra volta non lo sono visto questo passiamo a un altro argomento rilevantissimo da un punto di vista delle criptovalute che è la normativa anti-riciclaggio io ho partecipato come lobbista a livello di comunità europea per parlare con la commissione di scooter per la modifica normativa anti-riciclaggio per le criptovalute quindi tante cose ho il piacere di non studiarle ma di averle vissute qual'era la situazione? la situazione avevamo la quarta direttiva anti-riciclaggio la direttiva 849 del 2015 che è stata quella poi recepita in Italia con il decreto legislativo 90 del 2017 che a seguito degli attentati del Bataclan fu oggetto di revisione su pressione francese questa revisione incideva sul beneficio al owner quindi il beneficiario economico effettivo la riduzione dell'anonimato sulle carte di credito prepagate e sulle criptovalute criptovalute che poi nata come pressione francese venne fuori che sul Bataclan non l'avevano mai utilizzata non so se vi ricordate era venuta fuori la storia che parlavano tramite discord ps4 i terroristi e utilizzavano volute virtuali poi l'aeropole ha detto no questi usavano sms e con tanti anche perché uno che si fa saltare per aria non è che ha una conoscenza tecnica tecnologica profonda quindi la quarta direttiva è stata iniziata una proposta di modifica che il 19 aprile è stata approvata in prima lettura cosa dice questa direttiva prima cosa abbiamo una prima definizione a livello di diritto comunitario ancorché come a fine antiriciclaggio anche se questa definizione è stata oggetto di opinion da parte di EBA European Bank Authority e Banca Centrale Europea e quindi è stata abbastanza consistente dice valute virtuali una rappresentazione di valore digitale che non è messa o garantita da una banca centrale di un'ente pubblico ok non è necessariamente legata ad una valuta legalmente istituita quindi potrebbe anche esserlo quindi non necessariamente legale ed eccolo qua il pezzo per il quale ho scritto sul sole del 21 aprile non possiede lo status giuridico di valuta o moneta e questo è tranciante perché a questo punto abbiamo possiamo girare pagina sull'equiparazione tra valuta e moneta e criptovaluta perché non possiede lo status giuridico di valuta o moneta ma è accettata la persona fisica o giuridica come mezzo di scambio non come mezzo di pagamento come mezzo di scambio la sentenza 264.14 eccetera invece parla di mezzo di pagamento ma quando è stata l'occasione di modificare la norma la banca centrale europea gli ha fatto un'opinione molto pesante nella quale chiedeva il cambio di mezzo di scambio per allontanarla quanto più possibile dal concetto di valuta o moneta e che può essere trasferita memorizzata o scambiata elettronicamente definisce quindi cosa fa la normativa antiriciclaggio amplia le obliged entity quindi soggetti destinatari a normativa antiriciclaggio inserendo prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali avente corso forzoso e i prestatori di servizi di portafoglio digitale quindi apre quindi estende a questi due non peraltro la risoluzione ministeriale la selezione della cittadinanza di entrata è errata perché ancora prima dell'introduzione di questa norma intendeva visto che loro considerano la valuta virtuale quale valuta estera ovviamente fanno questo errore dicono quindi che gli exchanger sono cambia valute cosa che qui vediamo che il diritto comunitario ha dovuto mettere due nuove categorie perché la valuta virtuale non è valuta e quindi l'exchanger non cambia valute non solo la normativa definisce addirittura il prestatore di servizio di portafoglio digitale questa è una definizione che a livello comunitario ci siamo scannati perché ovviamente cercare di estendere a un nuovo mondo regole vecchie diventa complicato e qui è stato definito come soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi criptografiche private per conto dei propri clienti al fine di detenere memorizzare o trasferire valute virtuali ora quindi il wallet è un servizio di salvaguardia di chiavi criptografiche private l'agenzia delle entrate lo considera un conto corrente capite che proprio non ci siamo l'errore è aboriginem e di solito visto che mi hanno insegnato a logica all'università da premesse fasulle si può raggiungere qualsiasi risultato quindi questo è il prestatore di servizio di portafoglio digitale in più prevede che gli exchanger e i service wallet provider lo dico in inglese perché mi fa più fa più fico devono essere registrati altra cosa rilevantissima si discuteva se dovevano essere autorizzati o soggetti a licenza devono essere registrati registrati significa che non vi è alcuna autorizzazione o alcuna licenza quindi è solamente una mera comunicazione in Italia abbiamo anticipato addirittura prima che fosse introdotta la normativa antiriciclaggio quindi la quinta direttiva antiriciclaggio quando abbiamo introdotto la quarta che non prevedeva questa roba abbiamo anticipato alcune cose secondo me insieme ad altri paesi abbiamo anticipato abbiamo fatto bene perché abbiamo iniziato a rifletterci siamo uno dei paesi più avanti perché non solo abbiamo recepito ma abbiamo già previsto la registrazione e la registrazione era prima cosa veniva definito i prestatori di servizio relativi all'utilizzo delle valute virtuali che erano ogni persona fisico-giuridica che fornisce a terzi a titolo professionale servizi funzionali allo scambio alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da in ovvero da ovvero in valute aventi corso legale valuta virtuale dovrà essere rivista alla luce della definizione comunitaria perché qui non contiene il concetto che non possiede lo status giuridico di valuta o moneta e quindi dovrà essere introdotta perché il diritto comunitario lo prevederà anche perché se non la consideriamo questa norma diventa costituzionalmente illegittima perché dato che la legge delega la 170 dell'agosto del 2016 conferiva delega al governo di introdurre la quarta direttiva antiriciclaggio e sta roba qui non c'era nel momento in cui si fa un esercizio di delega su una direttiva comunitaria che non prevede questa roba abbiamo un eccesso di delega quindi per sanarla tocca adeguarla al diritto comunitario perché la direttiva ora è stata modificata e quindi potrebbe essere tra virgoletta sanato questa cosa la nostra normativa antiriciclaggio poi cosa ha fatto ha spacchettato i soggetti obbligati prevedendo gli operatori non finanziari altra cosa che ci allontana ulteriormente dal concetto di valuta e nella categoria degli altri operatori non finanziari vengono inseriti i prestatori di servizi relativi ai servizi di conversione da ovvero in valuta avente corso legale quindi gli exchanger sono operatori non finanziari e finiscono insieme a prestatori di servizi su società e trust questi sono gli operatori non finanziari commercianti in cose antiche case d'asta operatori professionali in oro lo voluti mettere per far capire che anche il nostro diritto allontana quanto più possibile il concetto di valuta moneta rispetto alla valuta virtuale mediazione recupero crediti e in più gli exchanger la norma sul cambio a valute invece viene modificata e qui è un elemento di ambiguità ambiguità perché viene fatta una sezione speciale del registro dei cambi a valute nel quale chi opera quindi prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali parli tra una seggio scusate ma devono registrare quindi chi fa utilizzo scambio conservazione e conversione dovranno comunicare la propria operatività poi c'è questa la comunicazione che costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale che è un termine una frase che appare per la prima volta nel nostro diritto perché non è un'autorizzazione è una comunicazione quindi ci sarà da comprenderne l'entità è in corso la pubblicazione del decreto io sia come con l'ex come ha subito ho fatto l'osservazione alla bozza del decreto perché la bozza del decreto ha un problema l'articolo 2,2 tra gli altri nel quale si dovrebbero registrare anche gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo e questa obiettivamente è un è un comma che è oggetto di critica sarà oggetto di impugnazione perché la norma non lo prevede prevede utilizzo conservazione scambio conversione chi utilizza chi accetta quale valuta virtuale il corrispettivo sembra una violazione del principio di uguaglianza in più la stessa norma anche qui sempre per dire all'agenzia delle entrate che non ci siamo prevede che gli operatori non finanziari quindi anche gli exchanger dovranno comunicare i trasferimenti da o verso l'estero superiore a 15.000 euro quando si applicano valute virtuali qui sarà da capire poi quali saranno i chiarimenti come verrà applicata perché io faccio fatica a farla girare questa norma ci siamo messi lì un giorno con l'amico Dario Deotto a cercare di capire come poteva girare questa norma obiettivamente qualche difficoltà c'è qualche soluzione l'abbiamo anche trovata ora però ancora non è abbastanza raffinata il problema però quando si fa di antiriciclaggio ora faccio un po' di debunking prima cosa non è anonimo bitcoin non è anonimo non nasce come anonimo ma l'anonimato o il pseudo anonimato è un problema per risolvere la privacy prima è stato detto tutte le comunicazioni sono pubbliche se posso attaccarci un'identità mi diviene fuori un problema di privacy e quindi viene risolto rompendo il legame tra indirizzo e identità del soggetto è una soluzione non nasce per questa maniera è tracciabile il fatto è che le investigazioni non devono più essere fatte come indagini finanziarie ma come indagini digitale e questo comprendete che cambia i rapporti di forza anche all'interno della pubblica amministrazione perché chi fa indagini digitale si dovrà occupare di questo mondo chi fa indagini digitale e non chi fa indagini finanziarie e più che le transazioni sono immutabili liberamente accessibili ed eterne io dico sempre che la blockchain è il peggior posto al mondo dove fare un reato perché se dovessi fare un reato lo farei in un posto dove lascio una traccia immutabile ineterna immodificabile è una questione di tempo si ma non si capisce è molto difficile da comprendere si ma tutti ricordo che il reato del riciclaggio si prescrive in 12 anni tre anni fa il bitcoin era anonimo oggi è un problema che è troppo tracciabile figuriamoci tra 12 anni cosa siamo in grado da fare come indagini digitali anche perché come ho detto noi siamo passati con un nuovo sistema dove la transazione diventa pubblica non è più privata non è più all'interno dei registri della banca ma non è neanche ignota come quella del denaro contante dopo che è venuto fuori tutta la 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 disquisizione sul bitcoin e l'introduzione all'interno del della normativa antiriciclaggio io vi porto questi che sono i fatti perché mi diverte andare poi a vedere i fatti a vedere gli studi a vedere le analisi questo è il report che fa la commissione europea al parlamento europeo su rischi di riciclaggio da 1 a 4 eccoli qua lotta al terrorismo valute virtuali rischio moderato l'uso di valute virtuali richiede competenze tecniche che lo rendono meno attraente ci vuole il secondo sulla ml dice ancorché lo volessero utilizzare viene utilizzato scarsamente loro dicono vorrebbero utilizzarlo a causa di alcune caratteristiche l'onimate in particolare io proprio dico ma siamo sicuri che il bitcoin è un modo buono per fare il riciclaggio vi immaginate quello che è riuscito a riciclare un milione di bitcoin e l'ha comprati a 19.666 dollari cioè oggi se ne trova con meno della metà il mafioso chi le ha suggerito finisce nel pilone secondo me però quindi è molto rischioso anche per per chi lo fa da un punto di vista di vulnerabilità qui ancora non è stata introdotta la normativa anti riciclaggio dice non sono regolate non sono monitorate un problema grosso come la casa non è possibile fare segnalazioni operazioni sospette perché le segnalazioni operazioni sospette le possono fare solo ed esclusivamente le oblige identity chi è obbligato non lo possono fare alcun altro a livello di working group venne fuori il problema di un olandese che ha fatto una segnalazione operazione sospetta e gli è stata rifiutata dalla propria UIF dalla propria unità di informazione finanziaria in quanto dice non me la puoi fare perché non sei soggetto obbligato e quindi questo può causare problemi e poi il settore non è adeguato e ora finisco e così lascio anche il tempo per le domande con il quesito del notariato io ho fatto non parlo oggi non parlo di fisco faccio fatica a non parlare di fisco il notariato è l'unico documento uscito da una categoria professionale in merito a bitcoin qual è non so se lo conoscete ma comunque ve lo racconto è uscito con questo quesito a Torino è stata fatta la prima compravendita immobiliare con regolazione del prezzo in bitcoin ancorché è stata fatta una dazio insolutum e non un'obbligazione alternativa però è uscito questo quesito qualche settimana dopo nel quale veniva detto è stata fatta una compravendita di immobili con pagamento del prezzo seppur determinato l'euro regolato in bitcoin e chiede tale operazione via le norme di cui l'articolo 49 il limite di 3.000 euro per contanti nonché quelle di indicazione analitica dei mezzi di pagamento lo studio fa una riflessione facendo un errore esiziale anche loro che considerano il bitcoin come contante digitale come valuta estera seguendo la risoluzione 72 che danni tanti ne ha fatti e tanti ne farà nonché seguendo la 72 non si leggono manco la sentenza della corte di giustizia perché dicono anche la corte di giustizia l'ha detto in realtà ve l'ho detto è un principio di neutralità e concludono dicendo dato che non è possibile adempiere su menzionati obblighi anti riciclaggio si suggerisce una valutazione circa l'opportunità ad effettuare una segnalazione operazione sospetta vi ricordate quel FUD fear and certainty and doubt eccolo qua visto che non l'ho capito fate una sossa per pararvi le spalle cioè che è un atteggiamento secondo me professionale incosciente perché un professionista deve avere il coraggio delle proprie azioni deve se no ci troviamo a non fare alcunché a non fare assolutamente niente quindi di segnalare un'operazione sospetta perché con l'assegno circolare non può averlo emesso da un conto corrente di dottorina e si trova da mettere l'assegno circolare questa è una domanda critica io qui la critica la faccio anche abbastanza pesante allora prima cosa il caso non è rappresentato bene perché se mi dici il prezzo determinato in euro regolato in bitcoin e dico no spiegatemi era il pagamento esclusivo in bitcoin quindi era una permuta era un pagamento o in euro in bitcoin quindi era un'obbligazione alternativa o era un pagamento determinato in euro che è stato regolato in bitcoin successivo quindi dazio insolutum successivamente quindi l'obbligazione è nata in bitcoin era esclusiva era alternativa o era successiva perché cambia i tre paradigmi perché cambiano totalmente i tre paradigmi questo non è stato chiarito il secondo pezzo è bene guardiamo l'articolo 49 l'articolo 49 dice è evitato il trasferimento di denaro contante di titolo e portatore in euro in valuta estera effettuata qualsiasi titolo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro ok si applica questo a un pagamento in bitcoin io dico tanto la norma è la normativa antiriciclaggio la normativa antiriciclaggio prevede la definizione di denaro contante e non prevede la definizione di titolo di apportatore però prevede la definizione di fondi però il titolo di apportatore è relativo al concetto di fondi però la stessa norma prevede la definizione di valuta virtuale alla lettera GG quindi l'ex dixit quan vuluit ergo non è che la viola questa non si applica non si applica perché se il legislatore avesse voluto vietare il trasferimento di denaro contante titolo dal portatore in euro in valuta estera o in valute virtuali l'avrebbe scritto ma dato che la norma non lo scrive non si applica quindi la prima domanda è sbagliata quindi questo non si applica è come dire se io faccio una regolazione del prezzo in bitcoin violo le norme sulla pesca delle acciughe no cioè non si applica è una cosa che non c'entra un accidente e questa non c'entra un accidente questa norma assolutamente niente si parla di contanti o di titoli al portatore in valuta estera quindi la prima non si applica il concetto di contante digitale è alieno al nostro diritto italiano e comunitario andiamo al secondo pezzo il secondo pezzo è 35,22 tutti la conosciamo come visco bersani la norma che fu pubblicata il 4 luglio del 2006 sapete perché me lo ricordo perché era il giorno dopo Italia Germania il giorno dopo Italia Germania hanno pubblicato un decreto legge nei festeggiamenti e nell'orda dell'entusiasmo ce ne siamo accorti dopo 15 giorni di quello che avevano pubblicato ma questo è tipo le finanziarie fatte il 24 dicembre quindi non è relativo ad un colore piuttosto che un altro ma è un modo qui dice all'atto della cessione dell'immobile anche se è soggettata d'iva questo non ci interessa le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ok quindi le parti devono dichiararlo recante le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento del corrispettivo come fa a violarla sta norma? cioè se io pago in bitcoin e nell'atto ci scrivo che questo pagamento sarà regolato in bitcoin in zacchi di ghaia in camion in lingotti d'oro o in pizze di fango del cameron di memoria di guzzanteana memoria il notaio deve prendere la dichiarazione sostitutiva ad atto di notorietà anzi secondo me è ancora più tracciabile ha un problema di privacy di gdpr grosso come una casa perché nel momento in cui ho un wallet e mettono l'identità abbiamo un problema di gdpr perché io posso fare una sorveglianza perenne di quell'indirizzo e quindi sapere quello che fa successivamente ma questa norma non la può violare questa norma anche questa il fatto che indichi nell'atto che verranno regolati in bitcoin secondo me è assolutamente compliant rispetta assolutamente l'articolo 25,22 non solo secondo me uno non può neanche fare una segnalazione di un'operazione sospetta per il solo fatto che vengano utilizzati bitcoin perché dato che la stessa normativa anti riciclaggio mi prevede la valuta virtuale mi prevede l'exchanger mi prevede quindi tutta una serie di obblighi a carico di chi opera ad alcuni operatori che operano in valuta virtuale di per sé l'utilizzo di bitcoin non mi può far generare la segnalazione di un'operazione sospetta al massimo mi posso porre il problema ex articolo 24 se è necessaria una verifica rafforzata da un punto di vista dell'antiriciclaggio e lì secondo me ancorché sia in contrasto con un colonnello della guardia di finanza che ha scritto un articolo su un pezzo che dice monete che favoriscono l'anonimato che sono contrario però su strumenti innovativi ad alto contenuto tecnologico non posso che condividere con lui che presumibilmente è necessaria una verifica rafforzata quindi un'adeguata verifica rafforzata io con questo vi ringrazio sono stato assolutamente nei tempi che per me è assolutamente quasi impossibile rimanere nei tempi perché mi dilungo questi sono i miei contatti per qualsiasi chiarimento a disposizione e ora se qualcuno ha fatto le domande santo se no vi interrogo più che una domanda a proposito della sensibilità della nostra categoria mi chiamo Walter Ventura e faccio parte della commissione finanza dell'ordine di Roma ci vediamo adesso ma ci siamo sentiti qualche mese fa solo per dirti quando tu menzionavi prima le scarse attività fatte dal consiglio dell'ordine menzionavi un convegno in realtà come commissione finanza dell'ordine di Roma uno ne abbiamo fatto e quello per il quale ci eravamo sentiti ahimè nel mese di marzo ovviamente in concomitanza con la dichiarazione IVA relegati alla sala casella e non alla sede dell'ordine mentre gli altri corsi pullulavano pullulavano di partecipanti al nostro saremo stati chiedendo un fermo all'amico Mauro anche lui presente una quarantina non di più ma io non è una critica nei confronti dei professionisti è della categoria perché di convegni dei singoli ordini o i singoli professionisti siamo straordinari sulla capacità innovativa e a livello di ordine che non c'è neanche un paper neanche dire oh ci sono sta roba stava nella piattaforma però eh insieme agli altri come con quello in quello stesso mese i corsi sul nuovi principi contabili bilancio l'IVA erano strapieni forse a 50 arrivavamo in compenso sono rimasti fino alle 2 quello è normale grazie ciao ve lo passate da soli o grazie comunque perché è stato molto chiaro tutto e anche illustrativo delle anomalie che presenta l'attuale normativa soprattutto fiscale una cosa mi ha colpito che non essendo una valuta può essere e questa è la domanda considerata una razionalizzazione di una sorta di unità di baratto questo è previsto dal diritto canadese l'unità di baratto in canada il bitcoin lo equiparono al diritto dal baratto perché ce l'hanno nel loro diritto positivo il fatto che però qui è potrebbe esserlo ma non lo è il bitcoin è necessario elaborare una nuova categoria concettuale ancora non ce l'abbiamo in testa vi faccio un esempio per elaborare l'automobile quanti anni ci sono voluti proprio il concetto dell'automobile arrivavamo dalle carrozze con cavalli quel folle che ha levato i cavalli e andava senza cavalli davanti ci è voluto anni per il diritto ma anche per concettualmente era la carrozza senza cavalli l'automobile il cinema era l'immagine e il movimento quindi ancora bisogna elaborare una categoria concettuale la mia interpretazione da un punto di vista giuridico è che il bitcoin è tutto il contrario di tutto a livello generale ma in ogni ordinamento del diritto gli troviamo gli è possibile trovare una sua definizione una sua collocazione giuridica interpretando ma da interpreti faccio subito una provocazione tra il diritto civile e il diritto penale io ho due schemi interpretativi totalmente diversi uno vado sul letterale l'altro può utilizzare l'analogia e quindi la stessa frase verrà interpretata in due maniere diverse e non è la prima volta che un prodotto o un bene ha diverse interpretazioni glielo faccio subito l'esempio l'oro l'oro non è moneta non accetto neanche il contraddittorio sul fatto che l'oro non è moneta non è valuta c'è un codice iso 4219 che mi dice xau è il codice dell'oro non peraltro subi banca posso aprire un conto corrente in grammi ma che non è un prodotto di investimento beh se l'ingotto d'oro non è un prodotto di investimento ma non è materia prima viene considerato come materia prima in determinati ambiti giuridici non è prodotto finito non è scarto di lavorazione oh ma non perde mai le sue caratteristiche a seconda di come lo guardo cambia natura stessa cosa il bitcoin il bitcoin è valuta è moneta è bene è sistema di pagamento è diritto al baratto è obbligazione naturale è security quindi titolo e allo stesso tempo non è nulla di tutto questo questo avviene lo trovate su vecchie mie slide su due cause quello sto anche scrivendo una è hash fast versus love che è una sentenza del giudice di primo grado della giudice di primo grado Dennis Montali della California nel quale si sono messi a discutere su natura giuridica stesso ordinamento Stati Uniti stesse norme stesso ambito geografico ed era totalmente diversa e poi lo trovate cristallizzato in CFTC versus coin flip dove la CFTC che è il regolatore americano quando introduce la causa dice e multidisciplinary approach is being used cioè utilizziamo un approccio multidisciplinare perché ad oggi ad oggi è l'unico utilizzabile cioè non ce n'è altri tale per cui diffidate di quando trovate qualcuno che sale su un palco e dice il bitcoin è più delle volte non ha capito neanche che è il bitcoin però si sente di sale su un palco e dire che ho qualche articolo un giudice della Corea del Sud ha detto che il bitcoin è un bene e allora cioè attenzione anche perché lo sto analizzando perché dopo che ho risolto bitcoin mi devo risolvere le altcoin e mi devo risolvere tutti i token perché come sempre si aumenta la difficoltà e aumentano i giri quindi diffidate delle semplificazioni c'erano altre poi c'era un altro che era si grazie io volevo mettere una lente di ingrandimento su un passaggio di natura fiscale e cioè anzi lo faccio mediandolo con quest'altra domanda se io regolo un contratto dicendo che voglio essere pagato nella prestazione come corrispettivo in bitcoin l'emissione della fattura viene fatta nella normalmente in euro ok e lì dipende l'abbiamo fatto originariamente quindi come permuta o altri sistemi obbligazione alternativa o dazio insolutum successivo sono tre paradigmi diversi comunque fini fiscali la fattura devo farla in euro con IVA perché l'IVA deve essere espressa sempre in euro per norma allora riferimento dell'esenzione IVA che si faceva prima di parlare delle è la venzione del bitcoin l'esenzione IVA grazie allora salve io sono un avvocato quindi intanto ringrazio per l'ospitalità devo dire che comunque sia l'ordine dei commercialisti diciamo forse probabilmente con tutte le critiche del relatore è parecchio avanti perché devo dire che effettivamente non trovo iniziative analoghe diciamo nell'ambito del mio ordine sebbene comunque sia ci si muova ci si muova comunque ci sia parecchio in movimento la mia domanda riguarda il decreto ministeriale di cui ha parlato prima e principalmente nell'articolo 2 dove si fa si farebbe obbligo di comunicazione dell'utilizzo dell'accettazione dei pagamenti in criptovaluta anche in questo caso a esercenti attività professionali quindi la domanda la pongo diciamo al libero professionista che è disposto ad accettare pagamenti in criptovaluta deve registrarsi e poi questo decreto ministeriale è già pubblicato in una sua stessura definitiva sono previsti sentivo ricorsi al TAR quindi già c'è comunque sia diciamo in stadio avanzato lo studio e l'elaborazione di un ricorso quindi dobbiamo immaginarci che prossimamente ci sia anche in maniera insomma auspicabile una sospensiva da parte del TAR grazie quella era una bozza sul mio blog sul blog di Coinlex sul nostro blog trovate le nostre osservazioni che ovviamente non sono una lettera d'amore se resta così sarà impugnato dall'associazione di categoria e sarà impugnato anche dai singoli dai singoli perché il singolo professionista teoricamente se quello è vero dovrebbe registrarsi però devono registrarsi visto che hanno definito male valuta virtuale devono registrarsi anche quelli che accettano i buoni sconto devono registrarsi anche quelli che accettano i punti fragola devono registrarsi anche quelli che accettano i punti mille miglia perché se te mi definisci valuta virtuale in quella maniera e nelle nostre osservazioni alla normativa antiriciclaggio c'era scritto scriveteci convertibile perché se no viene fuori un problema ecco ora viene fuori il problema perché se valuta virtuale lei pensi da giurista quella definizione lì si attaglia al punto mille miglia dell'Italia per rappresentazione digitale di valore ci siamo non emessa da uno stato o da un'autorità ci siamo non necessariamente non necessariamente data a corso legale ci siamo utilizzata come mezzo di scambio che può essere ci siamo anche punti mille miglia cioè questi non si rendono conto che gli arriva una milionata di registrazioni che gli servono a niente poi alla fine perché avverne troppe o averne poche o averne troppe è assolutamente uguale stesso risultato quindi teoricamente sì ad oggi è a livello di bozza noi come osservazioni abbiamo detto questa va in spunta anche perché c'è un eccesso di potere perché il decreto il decreto legislativo non vi dà il potere perché vi chiede solamente la registrazione di coloro che fanno prestazione di servizi relative a utilizzo conversione conservazione e scambio relativa a utilizzo di valute virtuali non a coloro che le accettano in pagamento il secondo gli si è chiesto anche di definire queste quattro cose scambio cose utilizzo cose conservazione e cose conversione perché sennò diventa un pochino troppo ambiguo spero di averle risposto grazie bene buongiorno vado leggermente oltre parlando del del fatto andando verso le ICO le ITO le token sale cioè sulla natura giuridica appunto di quelli che sono i contributi che vengono pagati solitamente per partecipare a una nuova emissione di un nuovo coin anche perché spesso e volentieri si scambia un coin o un token con un altro coin o un altro token perché le token sale spesso e volentieri vengono pagate in bitcoin o in ethereum quindi problema come vado a qualificare l'uno rispetto all'altro per quale motivo e a livello della normativa italiana che tipo diciamo di barriere ci stanno anche perché capisce bene che potrebbe essere diritti security like anziché in utility avete niente da fare per cena? che si inizia a rispondere un po' lo so però entriamo un po' nel allora su questo lei trova un documento dell'ESMA del novembre del 2017 scusi andavo a memoria novembre del 2017 il problema è che a livello europeo non vi è nessuno che ha dato una classificazione è stata fatta qualche cosa da qualche autore è stata fatta qualche cosa da un po' di dottrina un po' da qualche altro regolatore però in Europa ancora non ci siamo il problema del token è che tutto qualsiasi cosa e niente allo stesso tempo perché con un token può essere tipo quello che non vale niente può essere un coin e tale per cui per ogni token tocca mettersi lì a capire sostanzialmente non formalmente come si vede in molti white paper dove c'è scritto questo non è un security token io di solito nelle mie slide ho dopo Magritte con la pipa e se sì ne panna pip a questo punto se il livello comunicativo deve essere questo almeno se va a risa verbale e non ci si pensa più toccherà vedere la sostanza cosa fa quel token qual è la funzionalità d'uso ad oggi Consob non ha dato alcuna indicazione formale espressa vi sono 15 paesi in Europa è quello con cui sto scrivendo che hanno dato alcuna indicazione più importante è la Francia che dice cade fuori da qualsiasi normativa si sta aspettando da parte dell'autorità di marché finanzier francese doveva essere già fatta avevano promesso per fine aprile una bozza di proposta già qualche cosa sta circolando nei blog qualche bozza di proposta per normare le ICO da un punto di vista del diritto francese perché i francesi hanno dichiarato che sta fuori da qualsiasi cosa cosa che può essere può non essere qualche giorno fa sembra che anche Malta abbia approvato il Cryptocurrencies Act ha dichiarato insomma l'ho letto su un blog in chat l'altra sera la chat dell'aggiornamento però ad oggi dire che un token è se già con il bitcoin entro inizio a mettere le mani avanti con il token mi avvalgo della facoltà di non rispondere ma hai ragione nel momento in cui non esista ancora il servizio per cui verrà utilizzato quel token beh se c'è un servizio che verrà utilizzato attenzione io questo l'ho scritto molti dicono il mio non è un utility token lo emetto dall'estero ed è un utility token attenzione se è un servizio facciamo i commercialisti facciamo gli interpreti se è un servizio che io compio quel token per avere un servizio futuro è un prepagamento di un servizio tale per cui l'obbligo IVA perché nel momento in cui ho un prepagamento di un servizio ho un obbligo IVA dice no ma io sono dell'Azerbaijan me ne frega un accidente perché è un servizio digitale tale per cui il regolamento 282 del 2011 poi che si trova nel Citer nel del 7 in quella sfila di 7 insomma della legge IVA che tutti noi conosciamo e che spesso non ci dormiamo la notte è imponibile i servizi digitali sono imponibili nel paese del cliente consumatore finale tale per cui c'è l'obbligo di registrazione io quindi prima di andare a dire vado a fare un SEO che faccio un utility token e che poi ho 28 paesi 27 tra un po' 28 paesi che possono cercare di mettermi il cappello sopra dicendo che l'IVA era esigibile nel loro paese e tale per cui non ve la sto manco a raccontare ho messa sopra i 30.000 euro abbiamo il reato e più la possibilità di sequestro per equivalente ma tutte cose che noi ben conosciamo senza entrare nel rischio di esterovestizione questo proprio senza neanche entrarci io ho finito perché se no rubo troppo tempo all'avvocato Mazzoli e poi c'è da discuterci io non voi grazie grazie grazie